Se volete una scrivania ordinata e pulita non c'è altro modo, dovete eliminare tutto ciò di inutile che ci sta sopra. Diversamente dai normali stand per cuffio da tavolo, questo modello vi permetterà di avere più spazio sulla scrivania, poiché potrete appenderne ben due di sotto. Realizzato tutto in metallo pieno, già dalla confezione lascia trasparire un senso di forza e robustezza. Una volta aperto vi renderete conto che questo supporto è davvero solido e ben costruito. Pesante è il termine giusto. Questa pesantezza non andrà per niente ad inficiare la tenuta che avrà una volta fatto aderire sotto la scrivania. Il tipo di colla utilizzata è davvero qualcosa di poderoso. E a proposito, vi raccomando di scegliere con cura il posto dove posizionare la penticuffia perché difficilmente è riuscire ad astaccarlo. Semplicità, un buon design e una buona qualità dei materiali sicuramente giustificano il prezzo che è leggermente al di sopra della media. Il brand è molto famoso poiché offre prodotti di qualità ad un prezzo abbordabile. Vi lascio i link in descrizione del prodotto in modo da poterlo visionare direttamente su Amazon. Con questa breve recensione di poco più di un minuto vi lascio e vi auguro buona giornata. E noi ci vediamo al prossimo video! Grazie a tutti!